Andrea, due gol per sbloccare in una situazione che si stava facendo molto molto difficile? Sì, oggi è stato importantissimo sbloccare perché la partita, come abbiamo visto tutti, si era messa in dura. In una situazione di calcio d'angolo siamo stati bravi e fortunati a sbloccare la partita, poi dopo si è un po' aperta la partita e siamo riusciti a chiuderla con più gol. Ma cosa avete sbagliato nei primi 60 minuti? È stato un approccio brutto da parte vostra? Noi sicuramente oggi abbiamo fatto più fatica a far girare veloce la palla, siamo stati meno bravi del solito, però c'è da dire che anche quando giochi con una squadra che si chiude, si mette in dieci uomini dalla linea della palla, fai anche più fatica. Però l'importante è che in queste partite, se non la sblocchi subito, poi rischi di trovare difficoltà. L'importante è che ci siamo riusciti e che abbiamo portato a casa i tre punti che sono importantissimi. Si può dire che avete un po' sottovalutato l'avversario, ci può stare? Posso dirti, sinceramente non penso, perché noi sappiamo che ogni partita ha le sue difficoltà, che se cagliamo in questo tranello non andiamo da nessuna parte. Quindi non penso questo, penso che abbiamo trovato un po' una giornata dove le cose ci riuscivano un po' meno e abbia fatto più fatica del solito. Ancona a meno 7, la Cimitanovese a meno 8, continua la Samba ad andare bene. A questo punto quella partita del 19 sembra sempre di più la gara decisiva, poi per te sarà una gara ancora più speciale, ma c'è un cartellino giallo che potrebbe mettersi in difficoltà per la partita di Rimini. Come vedi questa situazione? Io dico che, come sapevamo prima, la San Mettese non sta mollando e sta facendo un cambiato straordinario. Penso che anche le altre due squadre, anche se magari è ancora meno 7, la Cimitanovese ha perso qualche punto, siano ancora in gioco. Però d'altra parte penso che noi dobbiamo pensare partita dopo partita senza stare a pensare agli altri, perché dipendiamo sempre da noi stessi e questa è la cosa più importante. Occhio al cartellino. Beh, questo ci dai, un'acchio di riguardo. Grazie.